Non sarà avvenuto a Bari nelle ultime giornate di campionato, ma al meazza di Milano Tim Burton era in tribuna. Ed è proprio da Milano che fin da oggi potrebbero arrivare novità importanti per la trattativa che potrebbe segnare il passaggio di proprietà della S. Bari dalla famiglia materrese alla JMJ, la holding del magnate texano. Una delle chiavi di volta è il versamento di un milione di euro da parte di Burton ai materrese, quale caparra per l'impegno incluso nella sottoscrizione del contratto preliminare. Negli ultimi giorni Tim Burton si attendeva a Bari, dove si è regolarmente presentato l'intermediario Alessio Mora, ma una serie di impegni, o anche una precisa strategia, ne hanno sempre rinviato l'arrivo. Sempre negli ultimi giorni è circolata infatti la voce che i texani avrebbero chiesto uno sconto direttamente proporzionale a qualche mini passività, emersa dalla cosiddetta due diligence sui bilanci del Bari. Questo potrebbe essere l'unico attacco ad una serena conclusione della trattativa, salvo un ripensamento sul filo di lana del presidente Vincenzo Matarrese, sempre più ammaliato dal bellissimo Bari di questo inizio stagione. Staremo a vedere cosa si diranno oggi a quel tavolo di un albergo milanese Salvatore Matarrese, l'avvocato Beppe Matarrese ed il commercialista veneziani da una parte, e Burton, Mora e relativi consulenti dall'altra.